Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Dopo il disastro del terremoto in Turchia, nel paese è stato dichiarato il lutto. Molti nomi famosi stanno anche cercando di partecipare a organizzazioni di beneficenza in modi diversi. Dimetos Demir chiede aiuto dai social media. Ha chiamato l'industria cinematografica dopo il disastro del terremoto, tutti dovrebbero assumersi la responsabilità ogni giorno. Dopo il disastro del terremoto, l'industria cinematografica ha chiamato. La famosa attrice Dimetos Demir, con i suoi successivi post sul suo account Twitter, è sia per l'industria cinematografica che per l'industria cinematografica. Ha chiamato i suoi compagni giocatori e le grandi compagnie. Ecco la richiesta di aiuto di Dimetos Demir. Dimetos Demir ha detto, ti prego. Carovana del generatore e lista dei bisogni urgenti. Chiedo a tutti i team che lavorano sul set ora di intraprendere un'iniziativa di aiuto organizzata. Dimetos Demir ha dichiarato, non è qualcosa che possono fare due a tre aziende, due a tre canali, ma se agiamo, tutti insieme. Non puoi fingere che non sia successo niente. Non puoi fingere che non sia mai successo un disastro. A tutti i miei colleghi attori, a tutti i miei compagni di squadra, a tutti i canali, alle case di produzione. Dimetos Demir ha dichiarato, tutti dovrebbero assumersi la responsabilità senza dire più o meno. Trasferisco la mentalità che ne abusa ad Allah. Dovrebbe essere dichiarata una mobilitazione nazionale e tutti dovrebbero fare quello che possono. Soprattutto le grandi aziende, specialmente l'industria cinematografica. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.